La Valle d'Aosta ha due nuovi amici, l'avvocato Angelo Benessia e il professor Mario De Aglio che hanno ricevuto l'onorificenza regionale di Amidola Valle d'Aosta nell'ambito delle celebrazioni della festa della Valle d'Aosta e dell'anniversario dello statuto e dell'autonomia. L'importante riconoscimento conferisce la cittadinanza regionale onoraria a personalità italiane o straniere che con la loro presenza o la loro opera abbiano dato lustro alla Valle d'Aosta. Il professor Mario De Aglio, economista e editorialista, è stato insignito per la sua attiva partecipazione al dibattito culturale che ogni anno trova un palcoscenico negli incontri della Fondazione Courmayeur. Grazie al suo competente contributo è riuscito a polarizzare l'attenzione sulla Valle d'Aosta. È un premio particolare, tra l'altro giunto inaspettato, quindi tanto più gradito, per due motivi. Uno che corona in qualche modo 40 anni di presenza in Val d'Aosta, poi di presenza come... Alpinista non sono mai stato, ma esclusionista sì, e lo sono ancora, quindi come tale mi dà una soddisfazione particolare. E l'altro il senso di essere accettato da una comunità, comunità con la quale non mi sono mai comportato solo come turista, ma con la quale ho dei rapporti abbastanza intensi, proprio di condivisione per quello che può essere uno che non abita qui, di partecipazione ai problemi, alle soddisfazioni, eccetera. Quindi l'essere accettato mi fa ovviamente molto piacere. L'avvocato Angelo Benessia, presidente della Compagnia San Paolo, si è distinto per il suo impegno nella valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard. Profondo conoscitore dalla Valle d'Aosta e da anni turista affezionato della Valle di Gressonei. Noi siamo entrati nella associazione Forte di Bard dalla sua nascita nel 2006, come soci fondatori, insieme alla regione, insieme all'altra fondazione bancaria, che è la fondazione della Banca Cassa degli Spami di Torino, e da allora abbiamo dato un sostegno che fino al 2011 si aggira un po' sopra il milione di euro, credo sia un milione e cento, un milione e due di euro complessivamente. Abbiamo una nostra esponente che fa parte del Consiglio Direttivo, quindi prendiamo anche parte, come dire, alla progettualità. È un bel esempio di collaborazione fra pubblico e privato. Le celebrazioni della festa della Valle d'Aosta sono state anche l'occasione per consegnare le onorificenze di scivalli e dell'autonomia, attribuite quest'anno allo scultore Luigi Meinè e all'olimpionica Giuliana Minuzzo. Non me l'aspettavo mai questa onorificenza, non so se la merito o meno, comunque sono molto felice che me l'hanno data. Premi ne ho presi tanti, perché prima eravamo in pochi a lavorare e adesso che siamo in molti è sempre più difficile. Comunque sono molto soddisfatto del mio lavoro, l'ho fatto con passione e sono stato soddisfatto. Giuliana Minuzzo è stata la prima donna a vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali, ma anche il primo atleta valdostano a salire su un podio olimpico. Le mie prime Olimpiadi sono state eseguite nel 1952, nel 1956 a Cortina, nel 1960 a Squavalle. La prima medaglia olimpica ad Oslo ho aperto l'albo d'oro delle atlete femmina. Poi a Cortina invece mi hanno dato il piacere dell'apertura alle Olimpiadi con il primo giuramento femminile, che mi è stato un grande, grande onore. A Squavalle la seconda medaglia olimpica, terzo posto in slalom gigante. Anche qui sono stata l'unica atleta femminile che ha vinto la medaglia olimpica. Assente l'anno scorso per motivi di lavoro, la fondista Reanna Follis ha ritirato ieri l'onorificenza di Chevalier dell'Autonomie 2011. La campionessa di Gressonnei Saint-Jean, già Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, ad un anno dal suo addio alle gare, ha rivolto un invito agli atleti che vogliono seguire le sue orme. A tutti gli sportivi, diciamo, di non demordere mai, di perseguire il proprio obiettivo con grande positività e determinazione. Sicuramente ci saranno magari dei momenti un po' difficili, però bisogna sempre guardare al domani con il sorriso e dopo piano piano le cose verranno. Grazie per la visione!